buongiorno a tutti bentornati al caffè siamo arrivati al capitolo 84 e del novellino e qui vedremo come messere azzolino fece bandire una grande pietanza cioè come questo messere azzolino e zelino terzo da romano fece e bandire quindi comandò che fosse distribuita una grande pietanza cioè una distribuzione gratuita di vivande di cibo perché la sua intenzione era proprio quella di fare una grande limosina e quindi di aiutare i poveri però in realtà vedremo che questo personaggio è davvero molto particolare perché era temutissimo nel medioevo lui è vissuto proprio tra la fine del 1100 e la prima metà del 1200 quindi siamo tra il dodicesimo il tredicesimo secolo dopo cristo e lui appartiene alla famiglia dei da romano citato addirittura da dante nel settimo cerchio dell'inferno dove si trovano i violenti contro il prossimo e di lui dante scrisse e quella fronte calpel così nero è azzolino famosissimo condottiero politico italiano signore della marca trevigiana ecco attenzione perché nel 1100 con il termine marca trevigiana si intendeva un territorio che si estendeva intorno a treviso però non c'è mai stata una marca retta da un marchese per conto dell'imperatore a treviso quindi in realtà indicava un'area vaga generica e dai confini non ben definiti la sua famiglia è anche conosciuta come gli ezzilini proprio perché tutti i capostipiti si chiamavano in questo modo ed era una famiglia germanica sono giunti in italia tra il decimo e l'undicesimo secolo dopo cristo e costruirono un castello proprio a romano cioè un borgo vicino a bassano del grappa quindi siamo qui da noi in veneto ed è per quello poi che vengono chiamati i da romano perché appunto costruirono proprio qui il loro castello il nostro però protagonista che sentiremo nella nostra storia è vissuto più precisamente tra il 1194 e il 1259 interessante perché fu soprannominato il feroce il terribile quindi l'immagine che circolò di lui è davvero frutto anche di esagerazioni è sicuramente gonfiata però ci rende perfettamente l'idea di come fosse visto dai suoi contemporanei e di quanto fosse anche temuto da tutti quanti infatti lo sentiremo poi leggendo le storie del novellino perché in questo caso come già accaduto anche in altri loci di questo grande raccoglitore in realtà non si parla di un unico episodio ma di più episodi giustapposti quindi abbiamo vari esempi della condotta di ezzelino ed è dal suo comportamento che noi possiamo evincere la sua morale e soprattutto quindi la sua indole la sua personalità abile condottiero perché riuscì a conquistare bassano belluno brescia padova trento verona vicenza divenne il signore di tutti questi territori pensate poi che a un certo punto si schierò anche con l'imperatore federico secondo di svevia il quale poi lo nominò suo vicario imperiale in lombardia quindi stiamo parlando di un personaggio che si costruì una grande fama comunque tutti lo conoscevano nel medioevo è già citato anche in altre storie all'interno del novellino stesso però ecco è molto conosciuto ed era davvero davvero molto molto temuto da moltissimi infatti di lui per esempio salim bene de adam da parma questo frate francescano vissuto nel 200 parlando di ezzelino terzo da romano scrisse ic plus quam diabolus time batur cioè questo è temuto più del demonio più del diavolo e se qualcuno è in casa il ritratto di dorian gray di oscar wild ecco sappiate che e se provate a rileggerlo a un certo punto si parla proprio di ezzelino terzo da romano il quale nel romanzo viene definito come figlio del demonio quindi era davvero pericolosissimo e temutissimo da tutti viene definito più volte anche massacratore di uomini temuto addirittura più del demonio poi a un certo punto fu persino scomunicato dal papa questo fu papa alessandro iv nel 1254 e invece poco tempo prima nel 1242 ecco che ezzelino terzo aveva bruciato e conquistato la città di montagnana quindi siamo sempre qua e dalle nostre parti vicino este infatti era controllata proprio da este ed è per questo motivo che ogni anno poi viene rievocato questo evento a settembre con l'incendio della rocca degli alberi e vediamo adesso quale immagine ci trasmetta di lui l'anonimo fiorentino colui che ha raccolto queste storie all'interno del novellino messere azzolino romano cioè zelino terzo da romano fece una volta bandire nel suo distretto e altrove ne fece invitata che voleva fare una grande limosina quindi un giorno decise ordinò quando viene bandita una cosa significa che viene ordinata una cosa quindi ordinò di distribuire quindi questo cibo gratuito non solo nel suo distretto ma anche altrove ne fece invitata quindi estese poi l'invito anche al di fuori del suo distretto perché voleva fare questa grande carità questa grande limosina ai poveri e però e perciò per questa ragione tutti i poveri bisognosi uomini come femmine e a certo die fossero nel prato suo e a catuno darebbe nuova gonnella e molto da mangiare quindi dovevano presentarsi in un certo giorno ad un orario ben preciso all'interno del suo prato quindi all'interno del suo giardino nella sua corte sia uomini che femmine quindi non importa notate homini che viene da homo hominis quindi dal termine latino e anche a certo die perché viene da dies che in latino significa proprio giorno quindi abbiamo due parole che derivano dal latino abbiamo anche un latinismo e ad ognuno di loro avrebbe consegnato una gonnella quindi un nuovo vestito una nuova veste e anche molte cose da mangiare la novella si sparse chiaramente la notizia si sparge ovunque trasservi da ogni parte e arrivarono ovviamente da ogni dove quando venne il giorno della gunanza del raduno i si scalchi suoi furono tra loro con le gonnelle con la vivanda notate questa forma sincopata non sono più i siniscalchi ma i si scalchi perché è caduta una sillaba sono i funzionari più stretti collaboratori del sovrano in questo caso del signore e sono proprio coloro che lo aiutano nella gestione soprattutto economico finanziaria e della sua politica del suo governo e sono loro quindi a distribuire sia i vestiti che i cibi e a uno a uno li facea spogliare e scalzare tutto ignudo quindi davvero davanti a tutti devono denudarsi perché poi vengono rivestiti di tutto punto e poi li rivestia di panni nuovi e davali da mangiare e poi appunto li sfama quindi mantiene la parola data e davvero offre molto ai poveri quelli rivoleano i loro stracci ma niente valse ma non valse nulla non poterono fare niente per riavere i vecchi stracci perché tutti li messe in uno monte e cacciovi entro fuoco e diede loro fuoco fa un grande cumulo di questi stracci di questi vestiti sporchi laceri e poi da loro fuoco e perché ha fatto tutto questo poi vi trovò tanto oro e tanto ariento che valse più che tutta la spesa e poi li rimandò con dio quindi a un certo punto cosa succede i vestiti si bruciano rimane però sul fondo di questo cumulo tanto oro e tanto argento che valse più della spesa che aveva fatto quindi è stato ben ripagato quindi altro che carità e delle mosine ai poveri ha non solo recuperato la spesa ma ci ha addirittura guadagnato cioè è come se avesse fatto la carità però quei loro soldi e in più gli è rimasto anche qualcosa e poi li rimandò con dio li ha mandati via li ha mandati in pace con dio ecco questo era messere e zellino terzo da romano un personaggio che non le mandava certo a dire ed era talmente quindi avaro talmente avido di denaro che addirittura derubava ai poveri è per questo che viene raccontato ed è l'immagine chiaramente caricaturale anche gonfiata di un personaggio che evidentemente trasmetteva una grande paura come ci ha detto salimbene prima ic plus quam diabolus team batur era temuto proprio più del demonio stesso e adesso inizia un secondo episodio quindi vedrete che qui ne abbiamo davvero tanti perché vanno a toccare i vari aspetti della personalità di questo personaggio e al suo tempo quindi al tempo di zellino terzo lì si richiamò un villano ad un suo vicino che li aveva imbolato ci riege cioè al suo tempo un villano cioè un contadino il villano è letteralmente l'abitante della villa e le ville sono in campagna e quindi appunto è un contadino si rivolge al suo signore ad zellino terzo perché vuole denunciare e un suo vicino di casa che gli ha imbolato ci riege perché gli ha rubato le ciliegie comparì l'accusato e disse mandate a sapere se ciò può essere perciò che il ciriegio è finemente imprunato cioè l'accusato si difende dice andate a verificare se io sia veramente responsabile di quanto vengo accusato perché dice il ciliegio è finemente imprunato cioè circondato dai pruni e ovviamente sono delle piante piene di spine e quindi lui si sarebbe ferito e non avrebbe mai osato farlo allora messere azzolino ne fece prova cioè andò a verificare e l'accusatore condannò in quantità di moneta e alla fine poi condannò l'accusatore non l'accusato e lo condannò ad una multa molto salata però che poi che si fidò più negli pruni che nella sua signoria perché si è fidato di più ovviamente dei pruni che non della sua autorità cioè ha dato più fede più credito alla pianta e non a quanto invece era stato detto e ai testimoni comunque alle persone che erano lì e che hanno quindi testimoniato e di liberò l'altro e quindi liberò invece l'accusato quindi ci fa anche capire che oltre ad essere avaro e avido era sicuramente anche ingiusto perché puniva gli innocenti e liberava invece lasciava impuniti i malfattori i delinquenti quindi colpevoli ecco perché vi ho detto prima quanto sia caricaturale anche questa immagine quando abbiamo testimonianze che ci giungono dal medioevo dai testimoni dagli scrittori dagli storici non dobbiamo mai prendere tutto però roccolato perché spesso poi questi grandi personaggi subiscono delle caricature delle alterazioni che non corrispondono al vero e adesso arriva un terzo episodio per il timore della sua tirannia cioè della sua essere dispotico li portò una vecchia femmina di villa quindi sempre una contadina un sacco di noci le quali non si trovavano somiglianti cioè non si trovavano assolutamente delle noci simili alle sue e porta le migliori di tutta la marca trevigiana e essendosi il meglio acconcia che la poteo ed essendosi vestita nel miglior modo che le fu possibile perché era comunque povera una contadina giunse colà dove lì era con i suoi cavalieri e disse messere titolo di grande rispetto dio videa lunga vita dio vi conceda una lunga vita ed egli sospettiò però lui si insospettì perché sapendo di essere temuto di essere considerato crudele vuol capire perché questa donna invece gli auguri ogni bene e disse perché dicesti così perché hai detto ciò ed ella rispose perché se ciò sarai noi staremo in lungo riposo perché se tu vivrai a lungo noi continueremo a vivere in un grande riposo cioè è una storia che noi abbiamo già incontrato si trova anche in altri loci ma non solo qui anche in altri scrittori comunque è una storia molto famosa spera che abbia lunga vita perché teme poi che qualcun altro possa essere ancora più cattivo più severo e più dispotico di lui quindi in realtà si gli augura una lunga vita ma per il motivo sbagliato naturalmente sempre per un fine egoistico quelli rise ovviamente la battuta suscita il riso del signore e fecele mettere un bello sottano cioè una sottana che però le arrivava solo fino al ginocchio e fece la viciniere su e la fece indossare e tutte le noci fece versare per la sala e poi a una una lì le faceva ricogliere e rimettere nel sacco e poi la meritò grandemente e poi però la ricompensò per averlo insultato ovviamente lui si deve vendicare quindi le fa indossare questa gonna che arriva solo al ginocchio le fa raccogliere le noci una ad una in ginocchio quindi deve anche soffrire perché le ginocchia sul pavimento ovviamente generano del dolore quindi si prova un po di sofferenza quindi capite un po quale fosse la sua giustizia il suo concetto di onestà di rispetto e di giustizia poi c'è un altro episodio ancora che riguarda sempre la giustizia legata però anche al credito sapete che c'erano sia creditori che debitori il creditore ovviamente ha sempre ragione e dovrebbe riscuotere il suo credito non essere punito qui succede il contrario in lombardia nella marca si chiamano le pentole ole e la sua famiglia cioè la sua servitù la servitù di ezzelino terzo da romano la famiglia perché dall'antico termine famiglia anche dal latino non significa solo i familiari cioè le persone che compongono la famiglia ma tutte le persone che vivevano all'interno della casa cioè tutti coloro che sottostavano all'autorità del pater familias cioè del capo famiglia dell'uomo cioè del marito e quindi anche i servi gli schiavi cioè tutti quelli che vivevano all'interno della casa quindi la sua servitù aveva un di preso un pentolaio per malaveria cioè aveva preso un pentolaio come garanzia e menandolo a giudice portandolo davanti al giudice messere azzolino era nella sala e disse chi è costui l'uno rispose messere è un olaro cioè è appunto un pentolaio andalo ad impendere cioè mandalo ad impendere abbiamo già trovato questo verbo significa mandalo a impiccare cioè impiccalo come messere che è un olaro e però dico che voi l'andiate ad impendere ed è proprio per questo che voglio che venga impiccato proprio perché è un pentolaio messere noi diciamo che gli è un olaro e ancora dico io che voi l'andiate ad impendere quindi lo ripetono per ben tre volte allora il giudice se ne accorse fece il neinteso ma non valse quindi tentarono in tutti i modi e di capire insomma questa questione di spiegare ad ezzolino che lui non era il colpevole però non ci fu niente da fare per il fatto che l'aveva detto tre volte convenne che fosse in peso siccome il signore l'ha comandato addirittura per ben tre volte nessuno può opporsi al suo volere deve essere impiccato e fu impiccato ecco perché ho detto prima che in fatto di giustizia sicuramente non può essere preso come modello di virtù a dire come fu temuto sarebbe gran tela cioè bisognerebbe scrivere fiumi e fiumi ed inchiostro quindi tantissime pagine e molte persone il sanno quindi all'epoca sentite del raccoglitore tutti lo conoscevano ma si rammenterò come essendo egli un giorno però qui voglio ricordare come essendo un giorno egli con lo imperatore a cavallo con tutta la lorgente si ingaggiarono che avesse più e bella spada però un giorno questo ezzolino terzo da romano si trova con l'imperatore probabilmente si parla di federico secondo di svevia però non lo sappiamo perché qui non è specificato ma sarà lui perché era il suo vicario imperiale addirittura quindi questo confermerebbe poi la veridicità storica e decisi quindi con l'imperatore con tutto il suo seguito di stabilire quale fosse la spada più bella chi fosse il possessore della più bella spada sodo logaggio cioè una volta stabilito il prezzo quindi della scommessa perché chi vince vince ovviamente del denaro lo imperatore trasse la sua dal fodero che era maravigliosamente guarnita d'oro e di pietre allora disse messere azzolino molto è bella ma la mia è assai più bella quindi anche uno vanitoso arrogante si vanta e pensa di essere sempre superiore agli altri e trassela fuori allora 600 cavalieri che erano con lui trassero tutti mano alla loro quando l'imperatore vide le spade disse che ben era la più bella e qui ovviamente l'imperatore è stato intimidito da tutti questi i suoi cavalieri quindi da tutti i suoi soldati perché ci sono ben 600 cavalieri che sfoderano le spade e quindi non può dire che non sia la più bella lo deve ammettere perché sennò qui rischia anche di passare un guaio un brutto quarto d'ora insomma era talmente potente forte aveva questa grande fama di essere un uomo crudele lo ripeto uccisore massacratore di uomini che persino l'imperatore nebbe timore e qui avete sentito quindi tutta una serie di episodi che descrivono un po la sua personalità però alla fine ritorna di nuovo la voce narrante e ci informa di come egli sia poi finito di come sia morto poi fu azzolino preso in battaglia in uno luogo che si chiama casciano quindi alla fine venne preso e catturato a cassano d'adda perché lì fu proprio sconfitto nel 1259 anno della sua morte e percosse tanto il capo all'asta del padiglione dove era legato che si uccise quindi batte talmente tante volte la testa contro l'asta alla quale era stato legato da addirittura uccidersi e darsi la morte quindi un grande condottiero poi alla fine muore suicida quasi per errore perché non accettava la schiavitù voleva a tutti i costi liberarsi tornare ad essere il padrone insomma del suo territorio che alla fine si dà la morte da solo addirittura ecco quindi abbiamo sentito quanto fosse un personaggio particolare io spero che anche questa storia vi sia piaciuta se non l'avete fatto iscrivetevi al canale come sempre vi aspetto alla prossima lezione vi ricordo che mercoledì prossimo il 22 marzo alle ore 18 ci sarà qui sul canale la live sugli indifferenti di alberto moravia vi aspetto numerosissimi a presto